Da anni le mamme per la salute hanno sollevato il problema dell'inquinamento nella piana di Venafro e lo hanno fatto sempre a ragion veduta, documentandosi e rendendo pubblici dati e pareri scientifici. Il loro esempio ha contagiato l'opinione pubblica. Diverse negli ultimi tempi le manifestazioni di piazza organizzate tra Venafro e Pozzilli. Nel frattempo anche il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha condotto la sua battaglia attraverso una serie di interrogazioni chiedendo più volte alla regione di prendere provvedimenti. Ma a Venafro si è lavorato anche sul fronte giudiziario, come dimostra l'esposto presentato in procura lo scorso mese di luglio dal sindaco Antonio Sorbo. Un dettagliato elenco di fatti che spaziano dalle tracce di diossina trovate nell'atte materno e nella carne alla questione delle polveri sottili presenti in via Colonia Giulia, dai dati sulle morti per tumore fino ad arrivare alle battaglie legate alle autorizzazioni rilasciate alle aziende che bruciano rifiuti. Proprio da questo dossier ha preso spunto l'incontro di oggi tra il prefetto di Sernia Fernando Guida, il presidente del tribunale Vincenzo Di Giacomo e il procuratore capo Paolo Albano che ha confermato l'avvio di una nuova indagine al momento contro ignoti. Albano ha riferito al prefetto di aver individuato un laboratorio di analisi di sicura affidabilità al quale verrà conferito l'incarico di accertare lo stato di coordinamento ambientale attraverso apposite approfondite analisi sia sull'aria che sul suolo. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal primo cittadino di Venafro ma al tempo stesso chiede che anche la regione faccia la propria parte. Un risultato importante che in qualche modo riconosce anche l'impegno che dal primo giorno abbiamo messo, io personalmente ho messo in questa battaglia. Il mio esposto del mese di luglio finalmente sta cominciando a produrre degli sviluppi e probabilmente abbiamo dato un contributo finché si scopra la verità su quelle che sono le sostanze che inquinano questo territorio e sullo stato della situazione, sullo stato di fatto. Ringrazio il prefetto, il presidente del tribunale, il procuratore Albano che in qualche modo hanno raccolto il mio disperato appello e attendo fiducioso i risultati di questi accertamenti tecnici che sono stati disposti dalla procura dai quali spero venga fuori finalmente la verità. Nel frattempo però le altre istituzioni non si devono fermare, in particolare la regione si deve attivare, si deve muovere per fare le cose che fino ad oggi non ha fatto.